Il porfido I pirosseni, minerali composti da catene singole di tetraedri di ossigeno e silicio appartenenti alla famiglia dei inosilicati. Gli anfiboli, minerali fibrosi e flessibili con una grande gamma di colori a catena doppia di tetraedri di ossigeno e silicio appartenenti anch'essi alla famiglia dei inosilicati. L'abiotide, una tra le più comuni miche ricche in ferro. Il porfido, utilizzato nell'antichità da egizi, greci e romani per obelischi, sculture, colonne, tombe, vasi e pavimenti, oggi viene impiegato per pavimentazioni stradali ed edilizia e in Italia viene estratto principalmente vicino Trento.